Signore, tu sei la nostra festa della liberazione. Ci hai liberati, come abbiamo sentito oggi nella predicazione della nostra pastora, dalla paura di essere annientati. Ci hai liberati dalla paura di rimanere chiusi tra quattro mura e non annunciare la tua resurrezione. Oggi ricordiamo anche domani alcuni tuoi discepoli liberati da quella paura. Ricordiamo Willy Gervis, un nostro fratello nella fede, ingegnere all'Olivetti, trucidato dai nazifascisti, nella cui tasca è stata trovata una Bibbia con scritto «Non piangetemi, non chiamatemi povero, io muoio per difendere un'idea». Scusate, mi commuovo sempre. Ricordiamo Jacopo Lombardini, che ha dato il nome a questo centro di cui parleranno Floriana e il pastore Platone venerdì, un predicatore metodista con la Bibbia in tasca che si era unito ai partigiani e non aveva sparato un colpo. Lo ricordiamo che proprio quando il 25 aprile del 45 fu trucidato morì a Mauthausen mentre da noi si celebrava il primo giorno della liberazione. Ecco, questi sono solo due esempi di persone, Signore, che sono stati liberati dalla paura. Dacci la forza di seguire non solo il loro esempio ma l'esempio di tutti i fratelli e le sorelle che sono usciti e hanno annunciato la tua parola perché ci lamentiamo spesso delle nostre chiese che si assottigliano ma se non siamo primi noi a uscire e annunciare la tua parola noi celebreremo la settimana dell'evangelizzazione tra due settimane che ci ricorda che siamo i primi che dobbiamo annunciare la tua parola. Ecco, ricordaci tutto questo oggi, ricordaci che siamo beati anche se non abbiamo messo la mano nel tuo costato, ricordaci che è il nostro compito e che è la nostra gioia essere liberati dalla paura.